Camera con uso cucina in appartamento si affitta a solo donne. Camere singole e doppie in affitto, camere per sole studentesse, a lavoratrice o studentessa. A studentessa, camere per studentesse, ampia e luminosa stanza singola in centro, solo a studentessa o lavoratrice. Due bellissime singole a studentesse universitarie, per ragazza universitaria. Affittasi camera singola a studentessa. Affittiamo camere ampie e spaziose a studentesse. Camera singola a ragazza. Perché questa discriminazione nei confronti dei ragazzi? Perché per noi è sempre più difficile trovare un appartamento? Sì, salve, ho visto l'annuncio per l'affitto di una stanza. Guardi, però lo affittiamo solo a studentesse. No, l'abbiamo affittata già un'ora fa. Però è una per studentesse. Io che sono un ragazzo è un problema. Ah sì, mi dispiace, solo per ragazze. Ah, ok. Sì, io pensavo per sua figlia, ecco, al solito chiamano i genitori. Negli ultimi anni Lecce è diventata una delle città universitarie più vivaci del sud e che ha visto una crescente domanda di affitti a breve e medio termine. Peccato però che gran parte degli annunci siano rivolti a studentesse e lavoratrici, lasciando il genere maschile in una situazione sempre più complessa. Questa selezione di genere, seppur legittima nelle intenzioni di molti proprietari, crea una sorta di discriminazione ad una fascia della popolazione studentesca e lavorativa maschile. C'è chi lo fa per una presunta maggiore affidabilità delle donne, ritenute più ordinate e responsabili. Alcuni giustificano questa preferenza anche con la volontà di evitare possibili problemi legati alla convivenza mista tra uomini e donne. Non tutte le ragazze vogliono condividere con ragazzi, ecco. E dunque per gli studenti e i lavoratori uomini la situazione si fa sempre più ardua, non solo per il vincolo sessuale ma anche per la scarsità degli alloggi. Nonostante gli annunci ancora online, in molti hanno già affittato la camera, o almeno ce lo auguriamo, altrimenti potrebbe trattarsi di una scusa trovata ascoltando la mia voce maschile. Ho visto un annuncio per l'affitto di una stanza. Non si affittava nessun certo. Se da un lato la scelta di affittare esclusivamente a donne è una decisione personale dei proprietari, dall'altro il mercato degli affitti a Lecce sembra indirizzarsi verso una segmentazione sempre più marcata. Non ci resta che dormire sotto agli alberi.